Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di mercoledì 1 marzo. Sono le 22.56 e stiamo guardando determinate cose, ovvero se noi riusciremo a salire sopra questo massimo, entro la 44esima barra, quindi entro quella dell'1, dovremmo registrare un settimo T-3 inverso a 23 barre. Succede abbastanza poco spesso, però dovremmo come al solito segnare nei nostri appunti quando, con che frequenza succede questa cosa e tenerne sempre conto. Infatti lo stiamo già facendo per il discorso del trading. Per il resto, rispetto a ieri sera, non è che abbiamo combinato molto. Abbiamo fatto appunto un terzo T-3 ribassista, che non ho ancora aggiustato così. Abbiamo rimbalzato in maniera interessante con il quarto T-3, che ci può dire che può essere iniziato un nuovo T-1, ma dato che continuiamo a non andare sopra determinati swing, siamo nel limbo. Perché siamo nel limbo? Siamo nel limbo perché se partiamo da questo massimo, iniziamo con l'inverso, potremmo aver chiuso un settimanale inverso a 11 barre. Ve lo disegno così, è ancora più semplice da vedere. Potremmo aver fatto così. Poi, senza di nuovo nessuna violazione di swing, potremmo aver dato vita a un nuovo inverso, che però si sarebbe già vincolato. Ovvero, avremmo, al posto del sesto T-3, e al posto del T inverso, che sarebbe confermato sia per il discorso di tempo che di altro, avremmo ottavo, nono, decimo, undicesimo, T-3 inverso, raccordo inverso, successivamente partenza di T inverso. Ma abbiamo conferme relativamente a questo? Zero. Non abbiamo niente. Da qui non abbiamo violato nessuno swing, da qui, scusate, da qui non abbiamo fatto altri movimenti di un certo tipo, qui continua ad essere confermato, a livello di evoluta e di ciclica, la partenza di un T inverso, e qui abbiamo, sia per evoluta che per ciclica, un discorso di chiusura del precedente, potenziale chiusura del precedente T inverso, questo qua. Il discorso è che, come ben vedete, navighiamo a vista tra i 23.817 e i 23.227 dollari. Continuiamo a fare su, giù, su, giù, su, giù. Una lateralità che prima ci ha dato una falsa speranza di andare in Golden Cross e se l'è mangiata, poi di nuovo e se l'è rimangiata, e avete visto che la media mobile a 50 periodi in rosso ha iniziato a curvare verso il basso. Poi siamo risaliti e quindi è andata finalmente in Golden Cross. Può perdere il Golden Cross se si torna giù. Abbiamo ancora tempo per quello che vi dicevo prima, la scorsa volta? Perché noi abbiamo guardato l'inverso. Adesso andiamoci a guardare un secondo l'indice. Per quanto riguarda l'indice, se da qui fosse partito con tutti i crismi, appunto, quasi tutti i crismi, probabilmente, un secondo t inverso, avremmo ancora tempo per scendere? Contiamolo. Eccoci qua. Qui inizieremo ad essere alla decima barra, ma sì, se si sgonfiasse tutto e andassimo ancora più giù, potremmo ancora dire, guardate che siamo ancora su questo secondo ciclo settimanale che non è ancora chiuso. Prima onda, seconda onda. Ci sarebbe qualcosa che può smentirlo? Assolutamente no, non ci sono vincoli. Se invece si fosse già chiuso, facciamo così, ok? Avremo settimanale, secondo settimanale, nessun vincolo, partenza del secondo t-1 che può scendere, può salire, può fare tutto quello che vuole. Non ci sono vincoli, non ci sono swing, si stanno guardando, diciamo, molto dal dare delle indicazioni. È quello che solitamente fanno quando gli HFT scappano, quando non ci sono volumi particolari di nessun tipo e quando, ovviamente, iniziamo una fase di lateralizzazione. Come detto, tra i 23.100 dollari e se non dobbiamo guardare le spike, i 23.6. Se guardiamo anche le spike, è qualcosa di più. Ma la solfa, sostanzialmente, è quella. Siamo in laterale da 1, 2, 3, 4 candele. Quindi che cosa facciamo? Eh, esattamente quello che ci siamo detti ieri. Attendiamo un vincolo decente, perché andare a fare trading senza vincolo in questo momento significa farsi male. Qui, in 18esima barra, si poteva entrare long e si sarebbe andati su sereni fino alla 23esima. Avremmo chiuso eventualmente il trade qua, avremmo portato pochissimo a casa, ma qualcosa l'avremmo portato a casa. Se non fosse salito troppo rapidamente questa candelina qua. Comunque è troppo poco, ok? Diventa scalping. Non è particolarmente profittevole come cosa, a meno di non aumentare le size, ma l'avreste fatto alle 5 e mezza di mattina? Sinceramente, il gioco non valeva la candela. Per cui, cosa stiamo aspettando? Di nuovo, stiamo aspettando che ci si vincoli da qualche parte, quindi rimane valido questo livello, anche se siamo purtroppo arrivati già a 18 barre, ma se arrivasse un HFT che ci spara sopra questo massimo, sapremmo che potremmo salire ancora per altre 6 barre per arrivare al minimo a 24, in media 32, al massimo a 44. La seconda cosa che possiamo fare, come di consueto, è mettere un alto allarme, qui siamo già andati a 26, qui sotto, sotto il minimo a 23.325 dollari. In questo modo, nel caso, però ci volesse ancora fare una piccola salita per poi iniziare a vincolarsi qui sotto, avremo un'indicazione data da un vincolo. Senza vincoli, senza swing, non ci muoveremo, assolutamente. Invece, mentre perdiamo tempo in lateralità, purtroppo, su Bitcoin, d'altre parti i vincoli si formano, d'altre parti i movimenti sono più interessanti, d'altre parti possiamo fare training tutti i giorni, senza dover rischiare lo scalping. è sempre importante avere, infatti, se un asset va in laterale, altri indici, valute, commodity, qualsiasi cosa che ci possa dare uno sbocco di trading, altrimenti, di nuovo, rischiamo di passare interi mesi in laterale a dormire o a provare a fare qualche dollaro con il rischio di perdere di più. siamo lontanissimi dal punto J, mentre invece la situazione se dovessimo guardare da altre parti è molto differente, guardate qui, su S&P 500, qui abbiamo chiuso malamente una candela con un minimo fatto a 3.939 sotto i 43 precedenti, molto vicino al punto J. Quindi molto vicini a negare questo movimento rialzista. Ed è tanto diversa la situazione, estremamente diversa. per cui sempre a scopo informativo io vi racconto che il trading lo potete fare da qualsiasi parte che se il progetto è bitcoin assolutamente massimo rispetto o fate gli dollar ma avete visto che negli ultimi due anni non è che abbia pagato tantissimo come cosa e quindi spostate ad orizzonti futuri i vostri guadagni piuttosto che altro oppure nel caso vogliate soltanto provare a fare dei guadagni con il trading ci possono essere altre risorse decisamente interessanti per il resto lato indice siamo arrivati a 256 giorni non sono pochi di nuovo sono una durata media di inverso siamo arrivati a 199 e con domani arriviamo a 200 giorni quindi abbiamo superato la durata minima di annuale come sappiamo e ci basterà ritornare qui sopra per avere la condizione necessaria e sufficiente per chiudere l'annuale inverso e poi a meno di raccordi inversi inizierà a scendere per cui questa è la situazione questo è l'aggiornamento noi saremo come di consueto estremamente prudenti e quindi ci muoveremo soltanto con vincoli e con T-3 esattamente come stiamo facendo sugli indici e sta pagando bene se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like vi auguro una splendida serata arrivederci